Sono tornato ora dal ristorante Gatsby che qui a Casino Ferrara fa da mangiare con 11 euro e mi è accaduto un qualcosa di trascendente di cui vi voglio rendere consapevoli. Mi sono seduto, ho ordinato e sono venuti a portarmi il mezzo litro di vino rosso che io prendo quando mangio lì al Gatsby. C'era una coppa appoggiata, rovesciata sul tavolo, io l'ho messa dritta, l'ho osservata per bene e poi vi ho messo dentro del vino. Tutto era ok. Ho osservato con attenzione la coppa, soprattutto quando, dopo di aver versato il vino, per evitare che ci fossero gocce che cadessero sul tavolo, ho appoggiato proprio con garbo la bottiglia al bicchiere accertandomi che non ci fosse quella goccia che poi ti macchia il tavolo. Ebbene, pochi minuti dopo, mentre mi accengevo a usare quel vino, mi sono visto la coppa lesionata. Quella coppa che non era stata assolutamente incrinata. Dopo che io vi ho messo il vino, nel momento in cui io nemmeno me ne sono accorto, ma me ne sono accorto a un certo punto quando, per bere il vino, ho preso la coppa ed aveva una chiarissima lesione evidentissima che si era verificata così, senza che subisse urti, senza altre cose. Allora, io ho chiamato il personale e dopo di aver travasato il vino di quella coppa in una coppa integra, ho mostrato la coppa lesionata agli inservienti del ristorante e poi ne ho parlato anche al titolare. Gli ho detto quante probabilità ci sono che voi mettiate una coppa incrinata sul tavolo. E lui mi ha detto ma sarà l'uno per mille. E ho aggiunto quante probabilità ci sono che io che prendo quella coppa e la osservo con attenzione, ci verso il vino e non mi accorgo che essa è incrinata mentre la sto osservando attentamente. Ebbene, quando ho cercato di bere il vino, quella coppa era incrinata in un modo evidentissimo che era impossibile che sfuggisse alla mia attenzione di prima. Insomma, questo a mio avviso è un chiarissimo segno dell'imminente versamento del sangue mio. Quando 78 anni or sono portarono a mio padre la notizia, professore è nasciuto un omascolo, egli che aveva un bottiglione di vino in mano se lo vide sfuggire dalle mani e tutto quel bottiglione cadde in terra si spaccò e il pavimento fu invaso del rosso di quel vino a indicare che quella vita che nasceva sarebbe stata macchiata dal sangue.